Senta, ha parlato con Malagò un po' delle Olimpiadi, la sta preoccupando poi questa voce che è giunta sulla Svizzera? Stiamo parlandone costantemente, ci confrontiamo tutte le settimane anche più di una volta, credo che le cose si metteranno tutte a posto, il lavoro sta andando avanti, quindi non mi sento particolarmente preoccupato.